Benvenuto fan di wrestling. Prima di procedere, ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere nessun video. Detto ciò, Welcome to the world of SIW. Esplode! San Francisco, Hey! Non sono più bambini, ma guardate un po' di spagna. Non dimenticate di novitare se nascite. E non è un po' di supporto per l'rumpe perché, come si prende, si prende, si prende, si prende. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.